Finalmente i tifosi della Cremonese hanno rivisto una squadra competitiva che è riuscita a portare a casa tre punti. Sì, soffrendo nel secondo tempo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo creato tanto. Potevamo fare qualche gol in più, mentre nel secondo tempo siamo calati un po' fisicamente. Ovviamente ci siamo abbassati troppo, abbiamo smesso di giocare. Questo non deve succedere in una squadra come la nostra. Cercare di chiudere la partita sia nel primo tempo e continuare nel secondo. È stato campo che ha messo una bella palla. Non so se andava dentro, io mi sono tuffato in scivolata e per fortuna ho fatto gol. L'abbiamo visto dalle immagini, il tuo tocco è arrivato comunque al di là della linea, per cui il gol è sicuramente tuo. Quello sicuramente mi sono accorto che ero al di là della linea. No, forse non so se andava dentro, ma è solo questo. Ecco, posizione inedita per quanto ti riguarda, perché oggi hai giocato sulla sinistra. Come ti sei trovato? No, io molto bene, però questa posizione l'ho già ricoperta diverse volte negli anni passati. Ho giocato sia a destra che a sinistra indifferentemente. Il campo era molto pesante e poi vabbè, insomma, alla fine ho sofferto in particolar modo, che comunque era un po' che non facevo una partita intera, quindi anzi, penso di aver tenuto anche abbastanza bene. Sono anche un po' meravigliato e non mi sono venuti i crampi, però sì, il campo non era il massimo. Finché è stato, diciamo, abbastanza buono, siamo riusciti anche, soprattutto nel primo tempo, a fare diverse azioni e a cercare il gol anche con continuità. Come ti sei trovato? Domanda d'obbligo con i compagni? No, beh, bene, benissimo. È tutta la settimana che mi alleno, sono stato accolto alla grande e poi anche io caratterialmente, insomma, sono uno che si adatta facilmente ai nuovi ambienti e quindi non posso solo che ringraziare tutti, dai compagni, allo staff, insomma, la società interna. Tu l'avevi detto, sei comunque un attaccante che ama aiutare molto il gruppo, che ama rientrare, che ama servire anche gli altri. Sì, per me il gol è una conseguenza della prestazione, però non sono quel tipo di attaccante che si risparmia perché pensa solo esclusivamente al gol.